chi vedi come tu erede perché alla fine prima o poi mi dovrò prima o poi 20 30 speriamo cent'anni premesso che il lavoro mi diverte ancora molto non ho una sofferenza personale ad andare alle corse oa farla telecronica no mi diverte un piacere si lo è assolutamente ed è diciamo la seconda metà del lavoro che è diventato un po tra virgolette manager se vuoi e dall'altra un po manager si nella mia parte invisibile io sono un dirigente di sky che maneggia un prodotto televisivo con tutti gli annessi connessi del lavoro che fa un dirigente ma quella parte lì operativa è quella che mi piace ancora di più e non ho pensato di ritirarmi un erede vero io francamente non l'ho mai non l'ho mai neanche come dire cioè non cerco in qualcun altro qualcuno che abbia non so le mie caratteristiche chi se ne frega però mi piacerebbe che uno non so come rosario triolo fosse uno che ha un grandissimo occhio un grandissimo entusiasmo arrivasse ad affermarsi per dirne uno no cioè lui comunque ha per le mani una una patata bollente secondo me perché comunque sono due due categorie importanti secondo me il suo lavoro lo sta facendo molto molto bene io sono rosario si è forte è un occhio pazzesco che nel nostro mestiere serve e dato che appunto hai visto un sacco di campioni da non mi ricordo neanche quanto tempo fa il senso hai visto tu da 500 500 due tempi moto gp 250 105 secondo te secondo tua esperienza cosa ci vuole oggi per essere campione in moto gp l'intelligenza veloce che un po la caratteristica che hanno sempre avuto tutti i campioni di tutti gli sport no quelli con la con la luccicanza e quelli con la cattiveria quelli individualisti al punto giusto quelli che sanno dico anche una cosa forse umanamente non bellissima ma che sanno darti retta finché gli interessa e poi però sanno fare a meno di te per puntare al loro obiettivo per questo dico non è molto edificante no però l'era moderna contempla un'intelligenza veloce che ti obbliga ad essere individualista e un po spietato con il contorno cercando di prendere ogni singola piccola parte del buono che c'è in ogni comparto mi verrebbe da dire ecco che con il solo talento e una buona moto probabilmente oggi non fai un campione della della moto gp devi averne uno che è capace anche di essere un po ingegnerino di se stesso concetto forse può servire può servire se non altro un po individuo senza dire strozzetto perché non è necessario individuoista o egoista ecco devi sapere tenere insieme un box saper scegliere le persone saper fare le scelte tattiche o strategiche al momento giusto in tempi rapidissimi che quello che poi marquez negli ultimi anni ha esasperato no quando comincia a piovere rientra un giro prima a cambiare la moto che ti sembra matto in quel momento lì però poi si rivela la mossa vincente quella è l'intelligenza veloce e ce l'hanno quel tipo di campioni lì declinata magari in modi diversi spalmandoli nelle ere ma è un po quella roba lì e da campioni e da futuri campioni in famiglia ragazzi 17 18 anni come la mia famiglia si cioè se ho dei talenti sportivi tra i miei ragazzi sportivi ci sarà qualche ragazzo in famiglia che richiede motorini moto a va certo due su anzi direi tre su tre io ho due femmine ludovica vittoria e un maschio filippo ok ok anni anni 17 16 e 13 il ragazzo e dici filippo a ok vittoria quella in mezzo ludovica la grande ok e direi soprattutto ludovica grande e filippo piccolino che punta il 14 cioè vorrebbero e non puoi dirvi no e perché non si può dai invece io un po ipocritamente non ho detto un no secco ho posto però delle condizioni molto stringenti che sono raggiungibili secondo me no tanto si devono fare la patente e io non ho detto no e quindi si può fare si può iscrivere possono anche chiedermi i soldi per iscriversi ok però io dico poi pigli il motorino secondo me devi andare in giro col paraschiena e col casco integrale eh sì e questa cosa li scoraggia di brutto sono uno sfigato sono uno sfigato però vuoi il motorino secondo me è così ma ma perché lo dico tu sei nato e cresciuto in era casco obbligatorio sì per te non è mai stato un tema mettere o non mettere il casco tutto te lo devi mettere da quando cominciato andare in moto anzi più andiamo avanti più hai protezioni da mettere oltretutto ho scoperto il giorno prima dell'esame della patente della moto grande che doveva andare lì con paragomiti paraginocchia non c'avevo niente quindi ho detto prendo la tuta e sono venuto andare a fare il coso l'esame con la tuta bellissimo non ti hanno bocciato con la tuta sponsorizzata delle corse a parte questo sono arrivato lì mi ha guardato veramente malissimo ovviamente ma c'era la signora esaminatrice ingegneressa ingegneressa perché loro sono ingegneri ingegneri ah perfetto io tutto bello spavaldo con questo era che moto era era tipo un bmw grosso col motore boxer e mi ha fatto fare il pezzettino quello lento lo stavo mettere giù il piede tutto barcollante mi son fermato la signora arriva lì e mi fa ingegnere 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 mi guarda e mi fa mi aspettavo di più da lei io boh proprio morto perché stavi sbagliando sì perché era tutto barcollante e no perché non eri capace o no era proprio scarmi passi scarso di scarsissimo poi siamo andati nel pezzo veloce che ti fa fare il pezzo veloce il ginocchio e lì record la motorizzazione è uscita il record della motorizzazione ma non si può ma ti boccia non è vero vedi che sei pirla e quindi questa cosa qua secondo me però è importante io invece che sono passato attraverso la libertà del non mettere il casco mi considero oggi un sopravvissuto per puro caso stavo dicendo un'altra roba per puro caso infatti io ho letto il tuo libro ai tempi testate per terra e mi son fatto male sia quando non usavo il casco e partivo felice non so come facessero i nostri genitori a pensarci in giro con quei catenacci smarmittati a quelle velocità senza il casco sulla testa e senza telefonino per chiamare casa terrificante bellissimo ma terrificante non so come facevate voi ai tempi senza navigatore poi te lo spiego come facciamo andare in giro senza navigatore però no il fatto che ti volevo dire è che se tu mi hai fatto molto male sia da senza casco che con il casco sulla testa quando è diventato obbligatorio secondo me ho una visione da 53enne ampia del tema e del problema ok ma poi scusa potrà un papà mettere i paletti che vuole assolutamente diciamo che però dal tuo punto di vista è difficile andare a mettere ma infatti alla fine cioè dico una cosa importante secondo me ma poi la dico anch'io che mi commuove anche un po' no ok io sono proprio contento della mia famiglia di mia moglie dei miei bambini sono educati carini in gamba per cui in realtà forse hai ragione tu cioè io devo dare fiducia a chi finora mi ha dato solo delle cose buone e non mi ha mai dato una fregatura perché la realtà della mia famiglia che è la cosa per cui io ringrazio il cielo tutti i giorni è questa qua cioè io non ho preso fregature da nessuno lì dentro dalla moglie al più piccolo dei figli il panorama il saldo è straordinariamente buono positivo per cui questo alla fine se motorino dovrà essere sarà sarà però sai qual è la fregatura di chi vive l'oggi motoristico e che non ci sarà più tra poco a parte no è che secondo me quella che per me era la passione che per te fortunatamente è stata la passione oggi è diventata la mobilità cioè per te andare da a a b è una figata per me pure per per la maggior parte di chi e lo è sempre stato al volante di qualcosa o in sella qualcos'altro per chi c'è adesso nella fase dell'adolescenza è un'altra cosa anche dell'università è andare da a b deve essere comodo veloce connesso il meno pericoloso possibile indipendentemente dai rumori dagli odori e dalle sensazioni e posso dire che io ero gasatissimo quando ho fatto la patente ma adesso moto giro eccetera eccetera non è per me cioè il fatto la possibilità di correre luca assolutamente però pensavo che mi come dire mi piacesse di più invece l'andare in strada mi ha fatto capire i pericoli che veramente ci sono andando con una moto grossa perché ho girato con smr per un mese dove va con la smr da nessuna parte per andare a cento all'ora e non riesci mai ad andare in sicurezza come va in pista perché in pista hai comunque airbag contro airbag farti male è veramente difficile anche se succede comunque in strada quello col telefono quello che entra dallo stop è impossibile puoi andare al massimo con un motorino e basta questa è una valutazione assolutamente sensata resta una cosa bellissima andare in moto per la strada ad esempio fare una salita in montagna un passo resta una cosa bellissima molto pericolosa da cui l'ipocrisia e la resistenza a concedere infatti discorso famiglia come si fa a coniugare il discorso il giro per il mondo sempre comunque australia america con il fatto di essere comunque un papa presente perché è veramente complicato ribadisco si fa così cioè dando il più possibile della qualità dove manca la quantità cioè dando una presenza che sia allora che sia che sia di guida che sia di amicizia che sia di affetto di principio di polso in qualche caso è chiaro che mia moglie poverina si smazza come tante mogli che hanno i mariti che sono lontani la parte lavoro sporco che è quello della crescita vera che è quello della quotidianità delle piccole esigenze io ai miei figli cerco di dare delle risposte ai grandi interrogativi che ogni tanto capitano nella vita di un ragazzino e cerco di darle in modo che si percepisca che sono utili per loro anche quando sono dure e devo dire che finora ha funzionato poi cerco di portare dell'allegria non che mia moglie non sia capace però cerco di portarne un pezzo in più di non portarmi i fastidi del lavoro in casa quando torno è una cosa che dovremmo fare tutti noi papà no ma di portare è molto molto difficile sì non sempre riesce però mi sembra dal tipo di unità che c'è nella mia famiglia e del tipo di tempo che spendiamo insieme mi pare che non ci siano delle lacune ecco cioè che oppure dove ho lasciato delle lacune c'è chi ha pensato a mettere dei pieni mia moglie direi e i figli stessi è un completarsi a vicenda dai sì però è fondamentale direi assolutamente di sì e per concludere andrei sul giochino che è piaciuto tanto l'altra volta con l'alberto abbiamo fatto dei talk show americani solo se butti via la domanda quando l'hai letta magari senza farlo vedere perché se si gira è un casino comunque l'altra volta abbiamo fatto con l'alberto dove facevo vedere la gente a casa non deve vedere cosa c'è lì qui dentro ci sono dei piloti moto 2 moto 3 moto gp e tu puoi magari essere un pelo più aperto nel dire quello che pensi guardando l'immagine qui dietro e la cosa bella che l'altra volta abbiamo fatto con gli youtuber quindi uno a casa immagina di chi sto parlando quanto gli dai a far capire o meno l'altra volta abbiamo fatto con gli youtuber dato che tutti sembra che si vogliono un gran bene poi invece e si capisce eh sì si capisce comunque però io posso dirti una cosa io non ho malevolenze cioè io ho delle cose fetide su personaggi del oddio adesso non li ho visti tutti ok quindi non si sa no nel senso che sui personaggi sui piloti la vera malevolenza non ce l'ho no ma non è malevolenza se mi chiede a dire cosa pensi di questo pilota appieno piloti abbiamo piloti qua non ho voluto mettere i telefonisti come dobbiamo fare? vai come pensi di lui? va cacchio finora ha buttato via un sacco di tempo di occasioni grande talento testa matta parecchio matta tenerezza però ha anche un caspita un'attitudine a non a non a non sfruttare il buono che hai per le mani mannaggia gli voglio bene sì anche se lui è un gran talento ma ha veramente sprecato non so quanti altri piloti loro non sanno di chi stiamo parlando eh ma devi immaginarlo è lì il bello meno talento ma molta più dedizione molto metodo molta dedizione molta capoccia like a sir like a sir like a sir non per il talento ma per il tipo di attitudine di attitudine che ha e che ha una come dire una giustificazione sono assolutamente d'accordo vabbè qui c'è quello che c'era in quelli prima tutti insieme sì qui c'è tutto l'attitudine, il talento l'intelligenza, l'individualismo l'egoismo l'intelligenza veloce l'individualismo il pilota quasi perfetto dai sì dobbiamo dire quasi perché la perfezione non esiste sì 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 questo non lo indugneranno mai perché però se ne è parlato molto perché? perché perché hai messo lui? perché se ne è parlato molto ed è uno dei pochi che se lui vuole lui può perché arriva lì con i forzieri vabbè ma così sveli tutto all'arcano no no ma un bravo tipo sì ma non è l'unico come dire figlio di papà esatto assolutamente assolutamente certo poi dopo è uno di quelli per cui la gente dice però spostati e lascia al posto uno che se lo merita però secondo me se sei dentro in quel giro lì non è che ti ci mettono proprio solo perché hai portato 2.000 euro quello che vuole dire io è che secondo me lui non è uno dei più lenti non è uno dei più lenti ma forse adesso adesso un po' l'ho diventato però c'è avuto un momento che era anche meglio di così ha vinto delle gare cosa che non si può dire sì come principio il fatto che ti compri il posto non è bello però vabbè e adesso arriviamo a quelli un po' più piccantini è proprio così non hai capito bene del tutto c'è un pezzo di questo di questo personaggio che mi manca ti manca non lo capisci un angolo dove non entro cioè non ti perché perché è simile a quello che dicevamo prima grande talento e ai tempi era molto considerato però se vai avanti poi si capisce chi sono no assolutamente no hai già detto ai tempi lo fa sembrare uno vecchio che poi non è neanche vecchio no ai tempi no non si vede niente no ai tempi per dire cioè qua c'è gente che ha 30 28 27 25 io dico ai tempi può essere uno che corre in moto 2 a 3 o 4 anni comunque andiamo avanti questa è un po' la patata bollente mi sa dai su su fighissimo eh fighissimo ecco dici tu perché se no poi io faccio capire no fighissimo impeccabile però su eh un po' di di brio eh perché se no qua poi so cazzi e manco che te ne accorgi no cosa eh ti sparisce il tutto da sotto il sedere ma va uno come lui ah no chissà se stiamo difistando o meno vabbè e qui andiamo tutto al cubo tutto tutto al cubo tutto alla nona full metal jacket full metal jacket dappertutto in tutto good and the bad good and the bad eh sì va bene si è visto palese no si è visto sono molto attento bene eh per carità bene però boh controprove cioè benissimo fighissimo viva ye 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 e io sono uno di quelli che tu sei carino simpatico bene talentone bene però è presto sì sono d'accordo va bene si capito quartarà eh sì l'anno prossimo abbiamo fatto proprio l'identikit di quartarà stiamo a vedere e poi l'ultimo questo qua figo carino da matti voglio bene un sacco molto proprio umanamente bene pilota forte ma poi svelo devi stare è come camminare sui carboni ardenti tieni su pilota forte e anche lì un po dai sempre lì dai dove vai qui avete capito tranquillamente e da queste situazioni che abbiamo cosa c'è cosa stai guardando e gli altri gli altri ma gli altri bene bene falso come giuda chissà se continuare mito mito assoluto number one testa di siluro parliamo un po delle testa di siluro animale parliamo un po delle testa di siluro lo so ho sparato così parliamo un po delle testa di siluro e del vario mondo hating haters nei piloti non ci sono testa di siluro cioè qualcuno qualcuno un po testa di siluro no perché il bello che mi fa ridere quando io avevo un canale piccolino appena creato tutti felici sembra proprio il paradiso no e alberto mi dice nasca che salutiamo salutiamo ciao alberto ciao nasca vai tranquillo che man mano che vai su arriveranno io dicevo ma perché non faccio non faccio male a nessuno faccio le mie cose e porca vaccona trudun trudun è una certa il buon alberto ha avuto ragione non si capisce com'è per come ci sono quelli che sono molto ci sono quelli che sono critici e hanno il diritto di esserlo nell'ambito come dire dell'educazione della propria opinione che è basata su una dimensione di se stessi che è quella che hanno io sono consapevole di avere una competenza che arriva ad essere come dire più alta della tua e dal punto di vista mio che sono competente ti segnalo che stai dicendo delle cose sbagliate delle cose che non condividi e questo secondo me va bene il confronto è fondamentale ma il problema è poi però c'è come dire la massa dell'invidia che è una sorta di invidia sociale che riguarda o chi non ha come dire i mezzi per essere te molto italiana o chi non ha avuto il talento per essere te bravo come youtuber bravo come telecronista bravo come pilota non lo so che però sta cosa qua non l'ha mandata giù e ti deve spiegare proprio tutto come va fatto e a me succede che mi spieghino come devo fare il telecronista che non ho visto quella roba lì che sono un caprone perché lui dal divano l'ha vista il che capita perché in effetti poi sul divano anche io certe volte dico cavoli come è più facile stare zitti qua e guardare tutto invece che essere è una cosa che mi chiedo sempre non è italiano è mondiale è mondiale è mondiale se tu dai se tu dai uno strumento per esprimersi a come dire a tutti come entrare nel bar hai quelli con i quali puoi sostenere una discussione normale e quelli che ce l'hanno con te specie se in quel paese lì tu sei uno che conta un po' di più però però vai chiudi il motociclista medio è un animale divertente interessante assolutamente perché se lui ha chiuso la gomma lui ne sa molto di più tipo di non so ce l'avevano con loris reggiani che ha corso non so 15 anni di mondiale ho capito anche giusto due gare però gli devono spiegare difatti il buon Dino Pera che salutiamo che è Dinone Dino Pera ha fatto un video molto simpatico su un po' il bello del web con questi commenti un po' stampalati te l'ho fatto vedere l'altra volta quando ho fatto la diretta su Twitch dove il Dino Pera mi diceva che in 20 minuti di sessione di prove mi darebbe una pista e soprattutto che io vado male perché non guido di trazione ma guido di telaio cosa vuol dire? Dino facci sapere allora se guidi di trazione non guidi di telaio è centrato il punto è quello lì che poi io non è che ho la scienza infusa né vuol dire mi vanto di essere quando vado a fare i miei turni in pista devo dire ma anch'io no ma tu tu corri ma anch'io dico non è che sono Giusecristo però so fare due no tu sei figo hai corso hai fatto il mondiale europeo io no proprio amatore però nella media sto posizionato bene cioè mi accorgo che tanti di quelli che mi banfano che non capisco niente che non sono buono poi dopo sul passo della cisa bam no sulla cisa no magari nelle piste sì certo quello mi dà gusto hai ragione politica di corretta assolutamente no no scusate ma no non è che faccia la tv perché non ci vado non ci vado da tanti anni e quindi no sì quelle lì sono abbastanza all use it però ti sei comprato la moto ci credi alla tua passione ci può anche stare che monti un po' sul piedestallo assolutamente sì però comunque questa cosa che tu guidi di trazione non guidi di telaio non ti piace beh potresti cambiare rivoluzionare il tuo modo di guidare ma sai che ormai adesso è diventata così virale sta roba che all'ecma vengono lì mi dicono ma guidi di trazione guidi di telaio cioè non ce n'è più uno sta roba non è che ha fatto come visualizzazione una roba esagerata però tra tutti quelli che è diventata viralissima sì tu non vai forte perché non guidi di trazione sotto i video anche del dopo GP Zamagni Vignales non guida di trazione per quello che non va forte io guido di sterno o di coccige mi sa che qualche volta di culo ho guidato anch'io quando l'ho lanciata su per la San Donato e anche te hai avuto parecchie esperienze mi sa o sbaglio di lanci? sì sì beh sì ci stanno sai che abbiamo aperto io e Alberto la ditta demolizioni salvadori e nasca dai sì abbiamo fatto anche il logo ma me lo sono perso mi sono perso troppa roba devo tornare ad aggiornare ditta demolizioni salvadori e nasca che pensavamo fosse in vacanza nel rally di Monza e alla PS7 vedi bam cioè noi fatturiamo sempre siamo sono andato nel ringhiere ma dove? alla roggia si è andato dritto? sì alla roggia? sì e subito in versione sinistra eccola porca merda però è lungo quel rally lì eh eravamo davanti ciao Vals ti salutiamo ero davanti a 20 secondi a Vals ero già lì che al mio Davidino me la pregustavo che volevi arrivare a dire ho vinto una gara davanti al campione del mondo della Formula 2 ovviamente sì e quando sono sceso dalla macchina dopo la PS7 che lui sapeva già tutto ero tutto triste c'era lui così che mi aspettava perché ha visto? eh sì certo allora fa adesso fallo un video fallo un video certo eh il buon bai se ce l'hai la carica ancora della mia moglie eh c'ha ragione cosa ti basta che siamo qui da ma quanto stiamo da quanto stiamo parlando adesso? 16 minuti no questo l'abbiamo fatto lunghissimo però no questo l'abbiamo fatto no questo l'abbiamo fatto non questo l'abbiamo fatto no questo l'abbiamo fatto Grazie a tutti.